Lorenzo una gara delicata quella di oggi un avversario davvero ostico da affrontare mi siete usciti però nel migliore dei modi con un punto veramente prezioso sì sì no è stato un buon punto e abbiamo lottato e punto conquistato e dietro tra l'altro è stata una giornata un po' movimentata perché mancava Bregliano salto dopo mezz'ora è uscito la rotonda è scalato dietro una soluzione che immagino aveste già un colpo in canna che aveste già come vi siete trovati con Diego sì sì l'avevamo già un po' preparata in settimana a questa eventualità e dietro siamo solidi siamo bravi tutta la squadra ci ha dato una mano e siamo stati bravi a fare un altro clean sheet e dimostra anche la versatilità che può avere questa rosa ogni tanto sì sì no tanti giocatori sanno fare tanti ruoli e per esempio Diego è stato bravo a fare il centrale Lord che è entrato non essendo in condizione migliore cioè tutti sono sacrificati e tutti hanno fatto bene è un esame di maturità superato quello di oggi? penso di sì ne abbiamo già superati tanti questo è un altro superato sicuramente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti